Bravo sei, in silenzio radio. Con tutti i dettagli usciti ieri su Call of Duty Modern Warfare, volevo veramente farvi di vero cuore tantissimi auguri di buon anno, speriamo che quest'anno sia veramente un anno ancora più ricco di contenuti per il mondo di Call of Duty, anche perché questo mese già arriverà la Season 3 su Code Mobile e il Big Update di Modern Warfare di cui vi parlerò a brevissimo nei prossimi giorni. Quindi tantissimi auguri, vi aspetto alle 13.30 in live su Twitch, così ci scambieremo di persona gli auguri in chat e poi passate ad iscrivervi sul canale di Telegram per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. Iniziamo subito con le notizie perché Activision ha recentemente dichiarato che Call of Duty Modern Warfare è diventato il capitolo della serie più giocato di tutta la generazione attuale di console. Avete capito bene, il videogioco avrebbe maturato su console più ore di gioco rispetto a qualsiasi altro capitolo della serie pubblicato su Xbox One o PlayStation 4. Il titolo avrebbe registrato la maggior media nel numero di utenti giornalieri, oltre che una più alta media di ore giocate per giocatore. Veramente ottimi risultati. Continua invece a macinare ottimi risultati anche nella classifica dei titoli più venduti negli UK, quindi in Gran Bretagna. Nella classifica appena terminata che va appunto fino al 27 di dicembre, Call of Duty Modern Warfare rimane al primo posto nella classifica, seguito da FIFA 20 e al terzo posto Star Wars Jedi Fallen Order. Quindi ottimi risultati anche in Gran Bretagna in termini di vendita. Abbiamo visto che il titolo stava andando veramente benissimo anche in America. Ma passiamo invece a parlare di notizie relativamente proprio al gioco. L'Infinity World ha annunciato che ci saranno miglioramenti nel settore dei livelli e delle icone una volta raggiunto il livello massimo. Infatti un utente chiedeva se si poteva mettere un unico icono, un unico livello, un'unica immagine una volta che si raggiunge il livello massimo all'interno del gioco. Joe Cegotti, responsabile multiplayer del gioco, ha dichiarato che arriveranno importanti miglioramenti all'interno di quel settore. Quindi occhi aperti. Ieri sera invece alle ore 19 c'è stato un aggiornamento delle playlist del gioco che hanno portato come novità la nuova playlist della modalità avvoltoio di cui adesso ve ne parlerò a breve e di cui avevo già parlato nei giorni passati perché era una modalità apparsa poi nelle partite private. Quindi avvoltoio prende il posto di Dropzone e ritorna la playlist tanta amata dalla community Shothouse 24-7 ed è stata tolta la modalità Shot Ship, quella che conteneva sempre Shothouse ma aveva anche al suo interno la modalità Shipment o meglio la mappa Shipment. Allora che cos'è ragazzi avvoltoio? La modalità consiste nell'uccidere i nemici e prendere i loro targhetti similmente a come succede in uccisione confermata. Una volta prese le targhette dovrete portarle nel vostro spawn nella zona adibita alla conferma. Potrete prendere le targhette degli alleati morti per negarle ai nemici come in uccisione confermata e se morirete tutte le targhette che avete raccolto saranno gettate nel punto della vostra morte a disposizione di nemici ed alleati. Questa modalità da ieri sera è disponibile all'interno del gioco. Questo è tutto quello che vi volevo dire sul mondo di Modern Warfare. Anche se è stato l'ultimo dell'anno qualche bella chicchetta è uscita e ve la volevo riportare questo primo dell'anno. Chi porta le notizie al primo dell'anno le porta tutto l'anno sul mondo di Call of Duty. Continuiamo a supportare appunto Modern Warfare e Code Mobile. Vi aspetto alle 13.30 live per scambiarci gli auguri su Twitch in diretta, in chat e canale Telegram per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. E noi ci vediamo ad un prossimo video.